Cari amiche e cari amici, state vedendo all'opera Daniela Campagnola durante la pulitura di un quadro in cornice ovale di Pesaggio Settecentesco della Scuola dei Porta, cilibertisti veronesi. Alle sue spalle la collega Riccarda Siliotto è invece impegnata nell'elicato intervento di preparazione e stesura della foglia d'oro zettino di un'antica cornice linea. Li potrete vedere entrambe con noi al nostro evento organizzato presso l'atelier all'inascimento al restauro in via Badile 41 a Verona nel quartiere di Borgo Venezia. Questo laboratorio di restauro dispone di sofisticate apparecchiature di ignostiche per le opere d'arte ed opera con successo per la cura del patrimonio storico di enti pubblici ecclesiastici e per i privati. Non perdete questa eccezionale opportunità che offre l'associazione culturale Progetto Musa Antiqua.